Al cosiddetto metodo Sino, Giuseppe Bordonaro avrebbe partecipato con un ruolo di primo piano, anzi, secondo gli investigatori, e proprio grazie a quel sistema di controllo sulla giudicazione degli appalti, diretto dal ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, Angelo Sino, che il re delle cave avrebbe consolidato il suo impero aziendale ed economico e dunque il suo enorme patrimonio. Al tavolino tecnico coordinato da Sino, al quale prendevano parte anche imprenditori politici, sedeva Bordonaro, che insieme al padre Salvatore, oggi deceduto, e ai fratelli Pietro e Benito gestiva diverse cave di pietra e aziende che commercializzavano calcestruzzo, cemento, materiali per costruzioni e soprattutto il marmo, quella pietra di Bigliemi, che è uno dei marmi più pregiati e rari e che veniva fuori proprio dalla cava Bordonaro. Per l'imprenditore oggi è scattato un nuovo sequestro di beni, ville e proprietà per oltre 5 milioni di euro, che fanno salire a 21 milioni di euro il valore del patrimonio già sequestrato in precedenza. L'imprenditore ha una condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione per mafia, divenuta definitiva del 2007, vicende giudiziarie che lo convinsero a mettere in liquidazione tutte le sue società, salvo poi ricostituirle con lo stesso oggetto sociale e con proprietari diversi, i fratelli Pietro e Benito Bordonaro. A confermare i legami dell'imprenditore con Cosa Nostra, anche alcuni pizzini come quelli ritrovati nel 2007 ai boss Salvatore Sandro Lopiccolo, in cui si faceva riferimento ai lavori in subappalto nell'aeroporto di Punta Raisi. Di lui e del suo ruolo hanno parlato anche diversi pentiti, come Baldassare Di Maggio, Calogero Ganci e Salvatore Cangemi.